Buon pomeriggio, sono Pier Antonio Toma e oggi vorrei parlarvi di un autore. L'autore si chiama Cosè Vicente Chirante Rives ed è un autore spagnolo, molto amico di Napoli. Sono lieto di aver contribuito a raccogliere migliaia di firme insieme con tanti amici, tanti schimatori di Chirante Rives. L'anno scorso, il 20 settembre, il sindaco di Napoli, al maschio Angiolino, gli ha finalmente conferito la cittadinanza anoraria. E credo che se la meriti in pieno questa cittadinanza, il nostro amico Cosè Vicente Gran Terese, perché ha scritto intanto un sacco di libri su Napoli. Laverno e il cielo, Napoli spagnola, Elogio del caffè al bar, Ramon scritti napoletani di Ramon Gomez della Serra, Viaggio napoletano in Spagna, Vesuvi e poi l'ultimo di cui vorrei parlarvi. Oggi si chiama Ombra e rivoluzione. Edito da Colonnese è uscito l'anno scorso e l'abbiamo presentato anche l'anno scorso. Ed è un libro legato, intanto è un libro che è storico, legato alla nostra rivoluzione napoletana del 1799. Cominciamo, può esistere, questa è la prima domanda che mi faccio, tra gli esseri umani un amore postumo e che per giunta dura fino a 70 anni? Le dubitiamo, è vero. Però la letteratura fa questo ed altro. Un libro speciale, questo qui di Cosè Vicente Gran Terese, che a voler definire il genere quasi si smarrisce nelle definizioni romanzo, saggio, autobiografia mascherata, storia nota e storia venuta allo scoperto da indagini accurate e da fantasia narrativa, condita con abbondante incursioni nel rapporto fra l'autore e Napoli. E poi che lui sostiene essere l'unico posto in cui ricorda di essere stato felice. Questo è Napoli per Cosè Vicente Rives. Intorno a scrivere anche queste pagine, lui che venendo dal sud della Spagna, si avvede di quanto invece i napoletani siano laboriosi e quanto siano inclini alla maninconia. Perché questo è il libro? Perché ha scritto un libro su Domenico Cirillo? Lui sostiene perché non è morto solo quel martedì 9 ottobre del 1799, condannato da un re giullare e una regina malvagia con un trio di inglesi depravati, ma ha continuato a morire una seconda volta a causa della retorica e della superficialità di coloro che sono venuti dopo e che hanno sempre trascurato l'uomo, la sua coscienza, la sua indole. Infatti, perché mai un medico di prestigio, uno scienziato accreditato presso l'Europa che conta e che frequenta la corte borbonica come Domenico Cirillo, finirà per passare dall'altra parte della barricata? Perché anche Cirillo dimostra di identificarsi con Napoli, geniale e creativa, ombra e rivoluzione, monarchica e giacobina, razionale e mitica. Sin dall'età di 23 anni, Domenico Cirillo insegna la botanica all'università, fino a primeggiare come naturalista al quale il grande Carlo Linneo finirà per dedicare una pianta, la Cirilla raccemiflora. Entrambi intrecciano una fitta a corrispondenza rigorosamente in latino, ma poiché la botanica da sola non garantisce una dignitosa esistenza, anche Cirillo, nativo di Grumo Nevano, diventerà un ottimo clinico all'ospedale degli incurabili, fondato da una signora spagnola. Seguendo così anche le orme di nostra famiglia di medici da generazioni, ma Cirillo è anche altro, pensatore, illuminista, conferenziere, entomologo, ostinato studioso, medico che produce un unguento che in Europa si venderà fino a metà dell'Ottocento, e uno che insospettabilmente indulge all'ironia e al sorriso quando nei suoi discorsi accademici del 1789 si diverte nell'esaltare le virtù morali dell'asino, pensate, un cittadino a pieno titolo di Parigi, quando ci arriva se n'è appena andato Francesco Galiani, un altro napoletano doc, e di Londra dove lì riceve e si trattiene da Denis Diderot a Benjamin Franklin. Se la rivoluzione francese è stata ingravidata da Diderot, Voltaire, Rousseau, quella napoletana può dirsi figlia di Gian Battista Pico, Pietro Giannone, Mario Pagano e infatti poi Domenico Cirillo. E con la sua scienza della legislazione, Gattano Filangeri si spinge anche ad influenzare la Costituzione degli Stati Uniti. Ma mentre la plebe di Parigi è cosciente di sé, quella napoletana è legata a uno stato primordiale, quindi facile preda delle grinfie del Cardinale Ruffo e del sentimento antifrancese dei coniugi Borbone, fino a rinnegare San Gennaro colpevole di sciogliere il suo sangue davanti al generale Championnet e ai suoi giacobini. Dopo la ritirata dei francesi, i sanfedisti fanno scempio di Napoli, a cominciare dalle abitazioni dei repubblicani. E' un racconto mantra, questo volume di Chirante Rives, con ampi stop and go e flashback, un avvincente algoritmo spazio-tempo e tanti nomi chiamati sul banco dei testimoni per fornire tante tessere di un mosaico che si chiama Domenico Cirillo. Il tutto concluso in una struttura sperimentale con una penna che viene da lontano e che appartiene alla nostra più collaudata consanguineità di Ghegli di oggi. E' un libro molto interessante che vi chiarirà molti dubbi su quella che è stata una grandissima pagina che è quella rivoluzione napoletana del 1799. Leggetelo. Grazie a voi, buon poveriggio, a martedì prossimo.